Amici sportivi di Levante Sport TV, siamo al primo appuntamento per il nuovo anno con Lega Pro, con la seconda divisione nazionale e naturalmente con Lentella che ha iniziato nel migliore dei modi il suo ritorno in campionato, il suo girone di ritorno che ha iniziato domenica con la bella vittoria sul Bellario, una vittoria sofferta, forse più di quanto il risultato stesso non dica, anche perché in termini di giochi e di occasioni come sempre Lentella è stata nettamente superiore agli avversari, però ha finito ancora una volta per non chiudere la partita almeno numericamente e quindi soffrendo fino all'ultimo minuto, nonostante una superiorità numerica andata avanti per buona parte della ripresa. Ad ogni modo era importante, soprattutto con tutte le incognite che rappresentano queste soste, quindi la ripresa dopo una sosta lunga, quale quella natalizia, dicevo era importante il risultato, sotto questo aspetto l'obiettivo è stato centrato. Oltretutto Lentella che ha fatto un gran balzo in classifica perché ha sfruttato i risultati negativi di Poggi Bonsi e Giacomense che la precedevano nella gradatoria e quindi li ha scavalcati entrambi. Lentella che si troverà al settimo posto di questa classifica avvicinando ulteriormente fra l'altro avversario che stavano davanti, che erano appunto avanti di punti e che si sono avvicinati ai chiavaresi. Ma andiamo come sempre con ordine, partiamo dai risultati, una domenica che ha visto molte sorprese, soprattutto per quanto riguarda le squadre di vertice. Andiamo a vedere nel dettaglio. Lentella appunto batte il bellare 1-0, quindi la vittoria del San Marino sul Casale 3-1. È caduta la capolista, è caduta su un campo difficile come quello di San Marino, il ramarico naturalmente ancora una volta per Lentella è molto, se pensiamo alla gara che fece Lentella contro la formazione appunto della Repubblica di San Marino. Ancora Borgabuggiano, Cuneo 3-2, un altro risultato sorpresa, la formazione toscana che batte il Cuneo, un Cuneo che sappiamo essere squadra di grandi ambizioni, però ripeto c'è stata ancora una volta la volontà di questa squadra, la forza di gruppo di questa squadra che magari tecnicamente non è sicuramente all'altezza del Cuneo ma che evidentemente con il collettivo ha saputo sopperire e portare a casa un risultato importantissimo in chiave salvezza. Ancora la Valenzana che batte nettamente l'Ecco 3-0 e lo sopravanza in classifica, l'Ecco che torna sull'ultimo scalino della classifica, l'Ecco che sarà il prossimo avversario dell'Entella domenica prossima nella trasferta in terra a Lombarda. Ancora Giacomense-Mantova 2-2, un pareggio per la formazione romagnola con il Mantua che si conferma una squadra che ha trovato la sua quadratura, la sua forza e il suo equilibrio soprattutto con una buona continuità di risultati. Treviso-Poggebonsi 1-0, la vittoria anche questa rosicata da parte, risicata da parte del Treviso che però, come dicevamo prima a proposito dell'Entella, quello che contava era muovere la classifica, soprattutto in una domenica nella quale il Casale ha segnato un passo falso e quindi i trevisiani si sono portati a un punto soltanto dalla capolista. Sant'Arcangelo che viene sconfitto in casa da una propatria per la quale ormai naturalmente sono finiti gli aggettivi. Pensiamo soltanto che la formazione bustoca non avesse avuto la pesante penalizzazione, ne sarebbe a 34 punti e quindi nelle primissime posizioni di questo campionato. Montichiari-Savona 9-1, anche il Savona vale lo stesso discorso, tutte le vicissitudini societarie, squadra che è stata dichiarata società, che è stata dichiarata fallita, partite alla messa in mora di alcuni giocatori che probabilmente a breve si svincoleranno dalla formazione savonese. C'è la preoccupazione anche da parte di Mister Corda che aveva il timore che, visto i pochi tesserati, la squadra non potesse prendere parte alla prima di ritorno. Invece ci sono state le assicurazioni, in questo senso, proprio dal presidente Macalli. La Savona si è presentata, ha fatto una buona partita e forse meritava anche qualcosina di più dell'1-1 che è riuscita a strappare sul campo del Montichiari. Il Renate sconfitto in casa 2-0 dall'Alessandria. L'Alessandria, anche qui, si parla di 8-9 giocatori sul mercato, ma al di là di questo evidentemente le motivazioni continuano ad esserci e i grigi hanno colto un altro risultato importante sul campo del Renate. Infine, la sconfitta da San Monifaceso sul proprio terreno 2-1 in favore di un Rimini sempre più consolidato nelle posizioni di alta classifica. Andiamo a vedere allora la gradatoria in virtù di questi risultati. Diciamo Casale rimane al comando con 40 punti, però alle sue spalle Rimini e il Treviso si sono avvicinate a una sola lunghezza, 39. Poi abbiamo il Cuneo a 35, San Marina a 33, Sant'Arcangelo a 30, Lentella che è a 27, abbiamo la Giacomensa a 26 assieme al Poggi Bonsi, quindi 24 per Renate, Borgabugiano e Montichiari, 23 il Mantua, 22 un altro terzetto composto da San Monifaceso, Bellaria e Alessandria, 21 punti per Propatria e Savona, 14 per la Valenzana e 13 per il Leco e come detto chiude la classifica. Dunque una giornata come dicevamo con qualche sorpresa, ma tornando a Lentella come abbiamo detto in apertura, quello che contava in questa fase era veramente riuscire a portare a casa un risultato pieno. La squadra aveva lavorato molto nella sosta, soprattutto la prima settimana sono stati messi carichi di lavoro importanti nelle gambe, nei muscoli dei giocatori, lo sapeva lo staff, lo sapeva naturalmente Mr. Prina, che temeva un po' questa gara anche per questo motivo. La squadra effettivamente è apparsa meno brillante sotto l'aspetto fisico rispetto ad altre settimane, ad altre partite, però ha messo ancora una volta in campo grande determinazione, grande volontà nel cercare questo risultato. Nel primo tempo ci sono state 5-6 occasioni, come vedremo tra poco dalle immagini, non sfruttate per poco o per errori di mira. E poi invece nella ripresa è arrivato questo bel gol di Nicola Lenzone al suo terzo centro consecutivo in campionato. Andiamo dunque a vedere le immagini per capire anche nelle occasioni, nel compito delle occasioni, il Bellaria non ha mai tirato nello specchio della porta a difesa Andrea Paroni, che ne è uscito con i guanti bianchi. Qualche conclusione pericolosa che è passata vicino ai pali, ma niente di particolarmente pericoloso per il portiere bianco celeste. Quindi andiamo a vedere le immagini e poi torniamo in studio e commentiamo insieme. Amici di Dilettantissimo e di Primo Sport, un cordiale buon pomeriggio da Chiavari. Lentella vuole riprendere il cammino giusto in questa prima del 2012. L'avversario è il Bellaria, Igea. Il calcio d'inizio sarà a favore dei padroni di casa. Si muove Volpe, il tocco indietro in direzione di Ciarcia. Eccolo il traversone sul secondo palo, colpo di testa, alto di Lenzoni. Apertura da questa parte, posizione regolare per Giampaolo Ciarcia. Eccolo il traversone, dentro! C'è stata una deviazione di Martinelli. Ciarcia, dietro di lui c'è Falcer. Ciarcia si accentra col sinistro, cerca l'imbucata in mezzo, Volpe di testa! Ecco siamo al vertice. Il pallone dentro, ancora verso Fioretti. Il tocco indietro, la sventola di Mariani. Calcio di punizione molto tagliato di Ciarcia. La deviazione di Lenzoni. C'è solo Rosso dentro l'area di rigore. Ciarcia prova a pescarlo, sul secondo palo. L'uscita da parte di Renna. Lenzoni! Sulla linea! Pallone per Amlili. Ha subito un fallaccio Amlili. Lascia correre l'arbitro. Ciarcia, il pallone dentro. Di testa! Nicola! Lenzoni! Lentella in vantaggio! Con l'incornata vincente di Lenzoni. Che ha messo il pallone nell'angolino giusto. E quindi ad inizio ripresa i bianco celesti trovano il meritato vantaggio. Questo pallone conquistato da Lenzoni. Attenzione che viene ammonito il numero tre Sonzoni che era già ammonito. E allora si va a fare la doccia. La battuta di Bamonte. Pallone dentro. Attenzione a Turchetta! Favre. C'è spazio per il traversone. Va a puntare l'avversario Favre. Poi lo mette sul secondo palo. Attenzione a Volpe che è libero. La conclusione ribattuta da Severi. Se ne va Gennaro Volpe che poi ripunta Severi. Pallone verso Serlini. La conclusione di Serlini! Pur non tirando mai in porta il Bellari è rimasto un partito fino all'ultimo. Per Lentella tre punti importantissimi che la riproiettano in zona playoff. Bene abbiamo visto le immagini avete quindi potuto vedere quello che dicevamo in precedenza cioè le grandi occasioni avute nel primo tempo e poi nella ripresa il gol di Lenzoni che ha sbloccato definitivamente questo risultato. Andiamo a vedere i commenti come sempre prendendo spunto dalla stampa e quindi partendo dal secolo XIX che titola Entella successo sudato. Bianco Celesti super in casa sconfitto anche il Bellaria. Si fa riferimento naturalmente al ruolino di marcia della formazione Bianco Celeste al comunale. Prima è l'effetto panettone meno brillante del solito ma il tecnico prende i tre punti. In altri frangenti non avremo vinto. Si fa riferimento appunto a qualche prestizione sfortunata nel passato dell'Entella. Poi le Pageli naturalmente con alcune sottolineature come quelle per Villagatti e Bertoli sempre molto sicuri in difesa. Per Gennaro Volpe che fra l'altro in queste ore sta per diventare per la prima volta papà e quindi un po' tutto il clan Bianco Celeste col fiato a sospesa per questo fiocco azzurro che arriverà in casa Volpe. Naturalmente poi domenica sapremo qualcosina di più e vedremo se appunto Gennaro Volpe soprattutto potrà essere della partita. Sono momenti naturalmente importanti anche in questo senso. Poi abbiamo anche a sottolineatura per la prestazione di Ciarcià che abbiamo visto scodellato diversi buoni assist a centro area fra cui quello che poi ha dato il gol a Lenzoni e lo stesso Lenzoni che come dicevamo si sta confermando con buoni doti di marcatore in area di rigore. Ancora a Gazzetta del lunedì Vito Centella successa a denti stretti minimo scarti e sofferenza nel finale per i bianco celesti messi in difficoltà dal Bellare. Una diciamo visuale un pochino più negativa se vogliamo poca personalità neppure mezz'ora giocata in superiore interno america ha consentito di chiudere i conti prima del novantesimo e qui appunto si fa riferimento a queste difficoltà che però a mio avviso sono più di carattere prettamente appunto fisico abbiamo detto di una squadra che ha lavorato molto che ha le gambe probabilmente ancora un pochino pesanti e si è visto anche proprio nella caratteristica di gioco che è sempre stata quella di una grande aggressività dell'Entella che invece in questa partita ha appunto morso un po' meno come si dice le caviglie degli avversari. Chiudiamo quindi l'argomento della partita di domenica ricordando invece il prossimo turno quello che come dicevo vedrà l'Entella impegnata sul campo dell'Ecco, sul stato dell'Ecco un campo difficile perché comunque la squadra è in ultima posizione in classifica una squadra che ha avuto grandissime difficoltà in questa stagione e non riesce assolutamente a ingranare la marcia che potrebbe appunto portarla a riscalare qualche classifica anche per quelle che erano le aspettative che c'erano intorno a questa formazione che poi ha cambiato anche molto a livello di dirigenza, ha cambiato direttore sportiva, ha cambiato allenatore, ha cambiato giocatore però i risultati per il momento continuano a non arrivare quindi staremo a vedere domenica, speriamo che per l'Entella possa essere un altro passo in avanti in questa classifica. E passiamo invece, chiudiamo con il settore giovanile anche se è stata una domenica di sosta perché a parte i giovanissimi fascia B tutti gli altri campionati erano ancora fermi in compenso nel periodo delle feste c'è stato spazio per molti tornei giovanili alcuni dei quali appunto hanno visto l'Entella protagonista in particolare il trofeo Canella che ha visto proprio i giovanissimi in fascia B di Vincenzo Meridona portare a casa il primo posto battendo in finale i padroni di casa della Goliardica una buona prestazione dei ragazzi di Meridona che ieri invece nel turno di campionato, probabilmente ancora un po' provati dalle fatiche del torneo che ha visto molte partite ravvicinate hanno perso 5-0 contro il Canaletto che peraltro è una delle formazioni più forti di questa classifica mentre per quanto riguarda le leve un pochino più piccole nell'edizione del trofeo della Befana organizzato dall'Unione Sportiva Bayardo a Genova c'è stata la partecipazione del 2000, 2001, 2002 e 2003 ebbene tutte le quattro squadre sono arrivate in finali e tre squadre su quattro hanno vinto i loro rispettivi tornei quindi 2000, 2001 e 2002 hanno portato a casa il primo posto e in più una coincidenza che comunque ancora una volta la dice lunga su quello che è la preparazione dei piccoli portieri chiavaresi tutte e tre le squadre vincenti del torneo hanno portato a casa il premio come miglior portiere della manifestazione quindi tre giovani portieri, l'Agazio per il 2000 e poi c'è stata anche la vittoria di Ghirlanda per il 2001 e l'Agazio per il 2002 hanno portato a casa questo riconoscimento importante in un torneo molto combattuto che avvideva la presenza anche di formazioni come Genoa e Sampdoria che in molti casi sono state estromesse proprio da Lentella Lentella che ha battuto la Sampdoria in semifinale o meglio nei quarti nel torneo del 2001 il 2000 che hanno battuto il Genoa nella semifinale arrivata ai rigori il 2002 che hanno battuto la stessa squadra rosso-blu nella finale anche questa andata ai calci di rigore quindi comunque buone soddisfazioni l'unica sconfitta in finale arrivata per i 2003 allenati da Vito Frugone e Gianni Comini che hanno perso al cospetto dell'Atletic però anche essi sono arrivati appunto in finale quindi sicuramente un buon traguardo anche per le giovanili chiavaresi che domenica scenderanno nuovamente tutte in campo e quindi si riprenderà a pieno regime tutti i vari campionati partendo da Berretti, Giovanissimi e Allievi Nazionali e via via tutte le altre categorie che entreranno nella seconda fase appunto della loro stagione direi che con questo abbiamo veramente concluso non mi resta di ricordarvi l'appuntamento domenica sul campo Rigamonti-Ceppi di Lecco alle 14.30 per Lecco-Intella seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di seconda divisione Lega Pro e naturalmente per quanto ci riguarda invece l'appuntamento a martedì prossimo sempre con uno speciale dedicato a Lega Pro un grazie a Emilio Garbarino Regia appuntamento la settimana prossima grazie a tutti